Salve a tutti, per Nocerinissima siamo qui sulla piazzola di Pietri sul mare verso Salerno a Vallo della Lucania, alle nostre squadre abbiamo la Divina, possiamo dire che oggi dovremmo perlomeno portare un tre punti a casa considerando il nostro blasone e la nostra potenzialità per la squadra che abbiamo. Allora per i commenti positivi spero tanto, li faremo al nostro ritorno, intanto abbiamo visto il nostro gruppo di Nocerina Live, sempre per il tema nuova e per Nocerinissima, saremo di ritorno verso le ore 18 anni circa, tempo permettendo e speriamo con un buon risultato in tasca, a dopo! Oggi c'è stato di ritorno, tutto si cambia. Musica Life Musica Life